Con SkyQ registrare è così semplice che non ti perderei più nemmeno uno dei tuoi programmi preferiti. Per registrare un programma ti basta premere il tasto R sul tuo telecomando. Se stai registrando un episodio di una serie TV, automaticamente verranno registrati tutti gli episodi successivi grazie al Registra serie. Se invece vuoi registrare un singolo episodio, premi il tasto R una seconda volta. Per annullare poi la registrazione, ti basta premere nuovamente il tasto R. Puoi fare tutto ciò anche dalla mini guida. E anche se raggiungi il numero massimo di registrazioni in contemporanea, la visione del programma che stai guardando non verrà interrotta. Premi il tasto Sky per accedere a tutte le tue registrazioni. Qui troverai tutti i programmi che hai registrato e i tuoi download. Seleziona il programma che vuoi vedere e premi il tasto centrale del telecomando per iniziare a guardarlo. Premi il tasto ESC per interrompere la visione della registrazione in corso. Per eliminare la registrazione, puoi farlo da qui, oppure puoi tornare indietro nel menu ed entrare nella sezione AZ. Da qui puoi scegliere il programma da eliminare. Premi l'indicatore di selezione destro e selezione Elimina. Puoi anche eliminare tutti gli episodi di una serie TV selezionando Elimina tutti. Oppure puoi farlo dalla sezione Memoria all'interno di Registrazioni. Se poi cambi idea, ti basta andare alla sezione Eliminati, selezionare il programma che ti interessa e poi selezionare Recupera.